Ecco, buonasera innanzitutto, ora non so quanti di voi abbiano già letto La signora di Sinsinghia, ma se chi non l'avesse fatto io subito suggerisco invece di farlo e questa è la prima cosa che voglio dire, perché questa narrazione, questo racconto ha riporto con una immediatezza e con una capacità di scrittura molto molto particolare dei fatti che in teoria sono molto lontani da noi, di fatto è un evento legato a un processo che si è tenuto a New York nel 1895-1896, quindi qualcosa di abbastanza lontano da noi, ma in realtà è un libro che ci parla molto anche di noi e della nostra realtà, qualcosa già l'avete sentito perché Anna ha già enugleato alcuni figli, su cui magari ora possiamo tornare. Si tratta della prima donna condannata nello Stato di New York alla sede elettrica, condannata in un primo processo, quindi un fatto storico di rilievo di cui la stampa ha parlato tantissimo all'epoca, ma che in un secondo processo vede ribaltata la sentenza e viene assolta. Questo è il nucleo da cui si sviluppa il racconto. Le protagoniste della storia sono le donne. Una è appunto questa emigrata dal paesino della Basilicata, poverissimo, questo paesino poverissimo da cui c'è un esodo potente alla fine dell'Ottocento, ma che continuerà poi anche all'inizio del Novecento e una delle mete sono sicuramente questi Stati Uniti d'America, quindi New York, il proprio classico diciamo. Il paesino è appunto Ferlandina, di cui già Anna Benedetti ci ha detto qualcosa che diventerà tua città per la pace, per la vita anzi, e da questo paesino parte questa Maria, 22 anni, arriva, naturalmente sbarca a Ellis Island, questo è tutto l'antefatto diciamo, e la troviamo appunto nel momento in cui viene sedotta da un suo polnazionale, questo domenico, e finisce poi dopo questa aggressione, questa uccisione che avviene a un certo punto, Maria ha questa reazione e da lì poi partirà il processo per omicidio ovviamente, verrà poi, vivrà per mesi nella prigione, che è la prigione anche lì più nota, no? Sing Sing, dove vanno poi quelli che hanno delle pene fortissime e dove c'è un braccio della morte, perché da lì... E' un braccio che si fa meglio, ma stile, vero? Sì, infatti lei era l'unica donna che aveva, che era il braccio della morte diciamo, no? C'erano tutti uomini, quindi lei ha una serie di primati tutti pesanti e negativi, è la prima donna che viene condannata alla sede elettrica, è la prima donna che viene richiusa nel carcere di Sing Sing, che era un carcere, potremmo dire, di massima, massimissima sicurezza, quindi ecco, la storia di questa ragazza, insomma, che ha tutta una serie di caratteristiche che sono proprio quelle di chi da povero, no? Deve emigrare e quindi non ha cultura, non parla assolutamente l'inglese, quindi non capisce e non si fa capire. Ecco, e qui c'è la rappresentazione quando dicevo vivissima, di questi momenti, di un processo in cui si vede chiaramente come si ha impari il rapporto tra un soggetto così debole e invece un'istituzione come quella appunto l'istituzione, diciamo, della giustizia, no? Proprio statunitense, non solo tutta fatta di uomini, ma poi che guardano a questa donna con, diciamo, grande pregiudizio e grande discrezio. Ecco, nell'arco della narrazione noi vediamo l'evoluzione di questa figura di donna che da appunto così tutta chiusa, tutta bloccata nella sua ignoranza anche degli usi dei costumi, della lingua, eccetera, eccetera, piano piano nel corso di questi anni si apre e comincia a capire di più, si mette a studiare l'inglese e alla fine, così in un arco di tempo anche molto breve troviamo una ragazza che riesce a esprimersi e riesce anche a far capire molto meglio quello che lei ha dentro, perché c'è anche un dramma interiore naturalmente perché Maria sostiene di non ricordare assolutamente nulla e quindi di non ricordare il momento in cui è avvenuto qualcosa per cui una lama di rasoio è saltata fuori e questo domenico poi cade morto perché appunto era stato colpito proprio, diciamo, nella parte vitale quindi alla gola. Ecco, quindi questa è una delle due coprotagoniste, l'altra è diciamo un femminile contrapposto, si tratta appunto di Cora Slopon che è la bisnonna dell'autrice, quindi qui c'è anche un filo di storia familiare che si dipana molto interessante che è una ricca americana che ha sposato poi un nobile friulano che appunto è De Talmo di Brazzà, una donna corta, una donna con una personalità molto forte e soprattutto una donna che si è sempre impegnata per i diritti civili, per la pace, quindi una pacifista attiva proprio e contro la pena di morte. Questo è il punto che collega queste due donne così lontane perché quando Cora legge un trafiletto sul giornale in cui legge in maniera molto sintetica che una immigrata a New York, che sta leggendo il giornale, che gli arriva da lì, ovviamente viene spedito, quindi legge il suo giornale e vede il quotidiano e vede un'immigrata italiana sotto processo per aver ucciso questo uomo che l'aveva seduta, eccetera. Ecco, dentro Cora si uniscono un po' i figli del suo impegno, che ha a che fare con la difesa dei più deboli sostanzialmente, lei si era anche molto impegnata sulle condizioni, per esempio, delle donne che lavoravano nella zona sua, insomma, quindi c'ha tutto un impegno di questo genere e decide che deve fare qualcosa per aiutare questa ragazza, cioè basta un trafiletto per farle capire quello che era esattamente quello che stava succedendo, che c'era una poveretta del tutto in difesa, che sarebbe stata completamente stritolata da un meccanismo che l'avrebbe già condannata prima ancora che il processo potesse cominciare in definitiva, quindi senza avere una degna difesa, diciamo, della propria parte. Ecco, che cosa fa questa donna eccezionale, questa Cora, riesce a mobilitare l'opinione pubblica non solo di New York, ma addirittura degli Stati Uniti, quindi c'è un movimento di opinione che lei riesce a formare, a sensibilizzare toccando sia quelli che sono contro la pena di morte, ma anche coloro che ritengono che i processi debbano avere una giusta difesa, insomma, toccando vari ambiti tra l'altro, no? Perché essere contro la pena di morte poi non era così diffuso all'epoca, anche la maggioranza dell'opinione pubblica pensava che la pena di morte fosse la giusta punizione in certi casi, eccetera, eccetera, quindi lei va proprio controcorrente e malgrado questo, andare controcorrente, riesce a far sì che Maria, beh, possa avere un secondo processo, c'è un appello con avvocati completamente diversi, non più l'avvocato d'ufficio che aveva fatto malvolentieri e malamente la sua parte nel primo processo, tant'è vero che aveva detto poco e niente in difesa, no? Diciamo della ragazza, ma con due grandi nomi della formatura, diciamo di New York, aiutati e quadriovati poi anche da altri aspetti, eccetera, mette su, quindi questo collegio di difesa molto potente che impressiona molto l'opinione pubblica e qui naturalmente il discorso di quanto siano importanti i giornali, l'importanza dei media proprio che creano l'opinione pubblica e quindi in definitiva questo secondo processo, ora lo vediamo, scagionerà completamente e assolverà Maria. Qui stiamo parlando delle due coprotagoniste, no? Ora, qualcosa va detto sul fatto che c'è un legame familiare perché, diciamo, questa è una narrazione che nasce esattamente all'interno di un libriccino trovato da Anna Pucci in un baule in questo luogo originario che è appunto la villa, il castello, come si può definire, di Brazzà, dove in un baule, a un certo punto in un cassetto viene fuori questo libriccino che accenna, diciamo, a questo nucleo di storia e da lì parte la curiosità dell'autrice del libro che comincia una ricerca che la porta a consultare lettere, diari, archivi, ritagli di giornale, cioè è una ricerca complessa quella che sta alla base di questa narrazione ed è una narrazione che racconta uno spaccato storico vero, cioè tutto quello che qui viene narrativizzato, in realtà si basa su dei fatti veri, cioè articoli di giornale, addirittura le trascrizioni delle varie udienze, dei processi che sono la base, diciamo, da cui poi viene ricostruita la storia. Quindi, diciamo, ci sono molti luoghi che sono stati scandagliati da Anna Pucci, quindi non solo questo luogo dell'origine della sua famiglia, diciamo, materna, ma poi New York, poi New Orleans, no? Che è la città d'origine di Cora, di questa donna di cui stiamo parlando ed è una ricerca molto difficile, no? Una ricerca che è durata, poi ci dirà qualcosa, lei anche un po' su questo è durata tanto tempo, anni, perché per mettere insieme i tasselli mancava sempre poi qualcosa e stranamente ci sono sempre degli incendi, no? Lei arriva in un posto e scopre che c'è stato un incendio che ha bruciato per l'appunto quell'annata oppure quelle lettere, è interessante, no? E malgrado questo, molto, si può dire capardiamente, perché ormai la storia evidentemente l'aveva molto colpita, era ingratta, ed Anna Pucci continua invece la sua ricerca e riesce a ricostruire benissimo questo biennio, no? Di cui noi se leggiamo il libro poi sappiamo molto e ci sembra davvero di essere ripresenti, no? Nelle varie udienze quando c'è una descrizione così accurata, così vivida, delle reazioni, non so, della giuria, la prima giuria tutta distratta, che tanto non è coinvolta, no? E quindi, oppure del traduttore che avrebbe dovuto aiutare Maria nel primo processo a capire quali erano le domande, no? Che gli venivano fatte, un traduttore sbadato che in realtà poi non aiuta, non aiuta affatto. Ecco, ci sembra un po' di essere lì proprio a vedere, no? Tutti i volti, le facce, le espressioni e noi capiamo che non c'è un'impossibilità di un lieto fine in questo primo processo, perché è già scritto che lei deve essere condannata, che deve essere condannata per omicidio volontario e di primo grado, quindi la pena di morte, no? Mentre avrebbe dovuto essere appunto degli attenuanti, ma lì non vengono neanche queste in considerazione. Ecco, ora, sono molti i fili che si intrecciano in queste pagine. Allora, innanzitutto io direi la condizione degli immigrati italiani in questo fine ottocento a New York, perché questo è un po' il substrato, no? Che noi vediamo, c'è da dove vengono e dove vanno. E forse qui io qualche sbiga la vorrei leggere, perché poi è anche bello far parlare il testo, no? Oltre a chi è qui che vi racconta quello che ha letto e come ha capito il testo prossimo. Ecco, a me sembra molto bello. Allora, da dove partono questi poverissimi immigrati che credono di trovare per l'appunto l'America, no? Come si diceva. Ecco. Allora, io qui ne ho segnata, a pagina 39, che da dove parte? Questo paesino di Ferrandina, ripeto, nella Basilicata. Allora, le donne stavano sempre sedute davanti all'uscio di casa, rammendavano gli abiti, chiacchieravano, preparavano il pranzo, tutto ciò che potevano fare senza muoversi dalla sedia, impagliata, lo facevano lì, in quella specie di enorme salotto che era la strada. Spesso un andoro piangeva per la morte del figlio neonato, la mortalità infantile era alta. La madre di Maria aveva perso ben cinque figli in fasce, di cui quattro dopo la nascita di Maria. Le donne vestivano tutte allo stesso modo, una lunga guanna nera, un colpetto nero attillato, sopra una camicia bianca, rifinita con i cani. Le galline e le capri scorzavano libere dentro e fuori dalle case. La strada era il loro cortile. A Ferrandina soltanto due famiglie possedevano tutta la terra. Vivevano nel centro del paese, in palazzi fatiscenti che si affacciavano sulla chiesa di Maria Santissima della Croce. Il resto della popolazione, i contadini, lavoravano le loro terre, lottando estremamente contro la forza della natura. Il genere di impetuosi venti invernali o il soffocante caldo estivo. Quei che non morivano spesso finivano per emigrare in America e così via. Partivano a gruppi di venti eccetera eccetera. Questo è il luogo che loro lasciano. Ma questa America, che cos'è davvero per loro che ci arrivano così dopo aver passato tutti i controlli che sappiamo eccetera. Ebbè non è che sia proprio questa meraviglia. E infatti ecco che qui troviamo un po' la descrizione di dove arrivano. Questa Little Italy che si sta formando e che si ingigantisce sempre di più. Perché ricordiamoci che gli irlandesi erano arrivati prima. Quindi erano già assestati e si consideravano già, come dire, insomma con delle prerogative in più rispetto agli italiani che erano gli ultimi arrivati, erano quelli trattati peggio da tutti. Quindi c'è un discorso che riguarda il razzismo e l'immigrazione molto preciso qua. Ecco, in quell'epoca, in quella piccola Italia, vivevano circa 70.000 italiani. La loro esistenza non era molto diversa da quella che avevano lasciato in Italia. La povertà era la stessa, se non peggiore. Qualunque fosse la regione d'origine, sui volti di quelle persone si leggevano la stessa identica sofferenza e gli stenti che si erano lasciati alle spalle. E qui c'è una bella descrizione di come vivono, che cosa fanno e come il sabato, il mercato all'aperto, Mulberry Street in piena attività, ma questi poverini vanno a raccogliere solo le cose che vengono scantate, eccetera, eccetera. Insomma, quindi tutta una descrizione, i bambini che giocano in mezzo a tutte le mondizie e così via. Quindi questo per dire che, insomma, questa è la realtà nella quale vive anche Maria, che lavora poi in realtà in una fabbrica di mantelli, quindi cuce situazionalmente con queste cose pesantissime, con questa estate calda, che è quella del 95, l'estate caldissima a New York e lei queste 12 ore sopra, questi tessuti di lana, quindi c'è tutta una situazione di grande sofferenza delle condizioni. Ecco, e naturalmente in confronti degli italiani, ripeto, che sono gli ultimi arrivati, che sono considerati, così, che sono guardati con disprezzo anche dagli altri, da altre situazioni immigrate, c'è una forma di vero e proprio razzismo. L'immagine di New York come ideale melting pots, luogo in cui si potevano fondere razze molto diverse fra loro, era mezzogliera. In quella città era in alto un vero conflitto tra campi armati. Gli italiani di New York avevano intrapreso un lungo viaggio per trovare padroni ancora più rigidi, per diventare gli zimbelli degli irlandesi e degli ebrei, appunto coloro che erano più consolidati ormai, eccetera, eccetera. Ecco, questo è un po' un filo che secondo me in realtà poi è il sottofondo in cui si muovono un po' le variazioni. Poi c'è un altro elemento, un altro filo che è quello che riguarda il sistema carcerario americano di quel tempo. Anche Maria viene chiusa prima nel carcere dentro la città, sostanzialmente, in una prima fase, quando ancora dura il primo processo. Quindi lì sta, in condizioni assolutamente disumane, il tronzo, cioè le tombe, praticamente il nome che era dato a questo carcere, che appunto viene ridescritto attraverso anche gli occhi, no, del personaggio. Quindi la reazione di Maria quando entra, le paure, il fatto che lei non capisca assolutamente cosa sta succedendo, perché non ha capito quanto dura il processo, quanto ci deve stare, che cosa gli succede, c'è lo spaisamento più totale, insomma il panico, no, eccetera. Naturalmente c'è una giuria in cui non c'è nessun italiano, non c'è, tutte le condizioni peggiori, ecco, che possa avere, lei non si vede punto di niente, eccetera. E poi c'è l'altro in carcere, che è appunto quello di Sin Sin, dove viene trasferita dopo che è stata condannata, perché a Sin Sin si va dopo la condanna. E incredibilmente quasi, si trova quasi meglio a Sin Sin, no, perché lì c'è, ecco qui anche, no, a seconda di com'è il direttore del carcere, le condizioni possono essere anche nello stesso sistema carcerario meno crudeli o più crudeli. Allora, chi dirige Sin Sin in quegli anni è una persona un po' più aperta, un po' più illuminata, quindi le condizioni di questi, che pure hanno delle pene pesantissime, se non la pena di morte è quasi migliore. E' lì che Maria starà per un anno anche, perché, insomma, si allungano i tempi, no, in attesa del secondo processo e così via. Ecco, anche qui vediamo, insomma, la situazione, vediamo, e qui però seguiamo questa evoluzione della figura di questa ragazza, come vi dicevo, che piano piano comincia anche a apporsi in maniera diversa, ad ascoltare, a guardare gli altri, mentre prima era tutta rivolta, diciamo, all'interno, in un moto anche fisico di difesa. Voi sapete che il linguaggio del corpo è fondamentale e il linguaggio del corpo di Maria è molto significativo in tutto il libro, perché da queste posture così ritirate, ritratte, chiuse, eccetera, si passa poi a posizioni anche diverse, no? Quindi l'interlocuzione poi con il prossimo è molto più favorevole l'impressione che lei poi dà, perché all'inizio veramente, insomma, sembrava proprio una cosa poi inanimata, tutti la consideravano così, ecco, e invece lì c'è questa. E qui naturalmente si tocca anche il tema della pena di morte, appunto, che è uno dei grandi temi qui, no? Del romanzo, insomma. E che cosa succede? Ma succede che in America la pena di morte viene considerata, cioè non viene messa in discussione, sono pochissimi coloro che ritengono che il carcere sia qualcosa che deve in realtà riformare la persona, non solo la punizione, poi addirittura la privazione dell'esistenza stessa, no? E quindi c'è questa parte in cui ci sono anche dei dati che vengono però anche dentro la narrazione che non risultano mai pesanti, ecco, questa è una cosa che voglio dire. Ci sono molte informazioni in questa narrazione, molte informazioni che però non risultano mai pesanti perché sono filtrate attraverso le esperienze e la storia raccontata, no? Quindi, però noi alla fine sappiamo molto di questa situazione, insomma. E quindi, insomma, qui c'è una considerazione, dice, che è priva di qualsiasi fondamento democratico, la convinzione che l'omicidio legalizzato fosse efficace sembrava profondamente radicata nella società americana, infatti solo tre stati, Michigan, Wisconsin e Maine, avevano a un certo punto deliberato una sospensione delle esecuzioni, ecco, mentre, insomma, unire l'omicidio con un altro omicidio era visto quasi come un diritto divino, eh, tra virgolette. Ora, insomma, poi se consideriamo che l'America considerava l'Italia un paese incivile, perché questo era assolutamente, paese alletrato, ecco, c'è diversi, per carità, però, eppure, insomma, qui si ricorda che la Ducale è un po' di Toscana, è vero, era solo il 1786 quando il problema della pena di morte lo pose e aveva dichiarato che l'omicidio legalizzato non era un deterrente al crimine e doveva essere abolito per sempre. Quindi, insomma, ecco, questi tasselli così di democrazia, deliteram, che naturalmente vengono completamente ignorati e così via. Ecco, quindi il sistema carcerario come funziona, la discrezionalità, a seconda di chi dirigere il carcere, ci sono situazioni di un tipo o di un altro e così via, e come funziona. E poi i processi, io ho trovato questa una parte veramente avvincente, perché ripeto, mi sembra proprio di stare lì a sentire quello che succede, no? Quindi, la differenza tra il primo e il secondo processo. E su questo l'attenzione io la voglio chiedere a voi anche, perché mi sembra che senza dire assolutamente nulla di esplicito, qui l'autrice ci faccia capire chiaramente che avendo i mezzi finanziari a disposizione, si può avere un processo completamente diverso rispetto a chi questi mezzi non li ha. Perché il primo processo, Maria è sola, praticamente ha l'avvocato dell'ufficio, che appunto è un ufficio, che non si presenta nemmeno, insomma, eccetera, eccetera, e sappiamo come va a finire. Mentre il secondo processo, che è, che ha alle spalle questa donna potente, anche dal punto di vista mediatico, perché poi, con la slovo è anche una donna che quando fa un'intervista alla stampa, beh, la stampa riporta quello che lei dice, quello che sostiene, fa opinione proprio. Ecco, un processo che è, che ha alle spalle invece una figura potente, in qualche modo possiamo dire, quantomeno autorevole viene da dire, è tutta un'altra cosa. I fatti sono gli stessi, i fatti sono gli stessi, cioè non è che cambia il fatto, ma avere un collegio di difesa che coglie i punti, tanto che non pasticcia come hanno fatto nel primo processo, ci sono inesattezze, cose trascurate, quindi è un processo che non era un processo giusto, e infatti il secondo processo è potuto essere fatto proprio sulla base delle motivazioni vere, cioè prima non era un processo regolare perché certe cose non erano state considerate e così via. Bene, ma avere un collegio di difesa agguerrito, potente, che studia il caso, che vede qual è la linea di difesa che può essere scelta, cambia le sorti dell'imputata e questo è un qualcosa che chiama in causa evidentemente anche una società, la società che nel rapporto tra deboli e forti poi questo emerge, Maria diventa più forte che ha alle spalle un qualcosa che la sostiene. Altro filo, ma ditemi se vado troppo avanti, eh? Non è l'effetto del mondo. Sì, non è niente. Altro filo interessante di cui si c'è come modo, è quello che riguarda la medicina e la psichiatria dell'epoca e questa è una parte che entra benissimo perché c'è una specie di parodia secondo me del mondo dei licenziati medici dell'epoca perché nel secondo processo ci sono una sfilza di medici, no? Alcuni chiamati dalla difesa, altri chiamati all'accusa, che dicono tutto, il contrario di tutto e chiaramente, e quindi lascio poi alla lettura, ecco questo. E quindi, insomma, poi molte altre cose si potrebbero dire ci potrebbero anche dire qualcosa della sede elettrica, della società. Sì, ecco questa è una cosa interessante, io non lo sapevo questo, quindi è proprio una cosa che ho appreso leggendo la sede sensibile. Allora, c'è un grosso dibattito sulla sede elettrica che è qualcosa che è una novità perché prima era l'uticcagione, la modalità tradizionale con cui venivano condannate a morte, no? Ma a un certo punto, proprio intorno agli anni 90, nell'Ottocento, progresso, quindi comincia il discorso e allora c'è questa idea di utilizzare la corrente elettrica per appunto uccidere i condannati a morte e quindi sembra un passo avanti rispetto a me di ragione che è un sistema ad avanzarcare, in effetti. Bene, se la vogliamo mettere così. Allora, ma come succede? Questo discorso della sede elettrica entra nel mezzo di una diatriba che in realtà è una diatriba del tutto economica che tu Anna già parcenavi, tra da un lato Edison e che praticamente il grande inventore che appunto vendeva poi sostanzialmente la corrente continua e Westinghouse che invece era colui che gestiva la corrente alternata. Allora, guardate, nessuno dei due vuole che la corrente che viene associata al proprio nome venga utilizzata per la sede elettrica, perché non è una bella pubblicità avere nelle case qualcosa che poi sai che è la stessa cosa che uccide le persone. Anche la paura che la popolazione aveva di queste cose nuove, la luce elettrica è pericolosa o non è pericolosa e c'è una lotta qui quindi. E c'è Edison che veramente scrive, esce in maniera molto esplicita dicendo a favore dell'uso della corrente alternata per la sede elettrica. Westinghouse invece non vuole. Assolutamente ci sono poi degli esperimenti che sono drammatici perché i primi esperimenti della sede elettrica ve li leggerete, io ora non vi sto a dire i dettagli, però insomma non sono andati benissimo. Ecco, diciamola così, dovevano mettere un po' a punto le cose ancora. Però alla fine poi chiaramente si afferma il sistema della sede elettrica ed è appunto la corrente alternata poi quella che viene usata. Quindi messa a punto il voltaggio, perché però ecco c'è anche in questo libro tutto questo risvolto con tutte le uscite, le dichiarazioni, le motivazioni in realtà è una guerra economica per il profitto da trarre e ripeto che nessuno vuole essere chiamato in causa perché non vuole essere associato a una cosa così, insomma, crudele e poi spaventosa come la sede elettrica. Era questo, no? Sì, buon detto, grazie. 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 Grazie.